Buongiorno e benvenuti alla appuntamento con l'informazione da Tef Channel News. Apriamo con la cronaca. Una frana abbattutasi sui binari ha provocato stamattina un deragliamento di un convoglio della ferrovia centrale Umbra nel tratto tra le stazioni di Trestina e di Monte Castelli in Alta Umbria. Cinque sono i feriti per lo più tra i pendolari ma non sono gravi le loro condizioni. Come ci dice nel servizio d'apertura Marcello Migliosi. Sono quattro o cinque i passeggeri che hanno subito contusioni o lesioni comunque non gravi da codice giallo per il pronto soccorso a seguito dell'incidente che questa mattina alle sei e trenta ha coinvolto un treno della ferrovia centrale Umbra tra Monte Castelli e Trestina non distante da città di Castello da dove era partito in provincia di Perugia. Due le carrozze interessate dall'incidente. Una ventina di passeggeri invece è stata assistita dal personale medico ma è rimasta praticamente illesa. Per la parte sanitaria l'intervento è stato coordinato dalla sala operativa del 118 di Perugia inviate sul posto dieci ambulanze due delle quali medicalizzate. I feriti sono stati portati presso l'ospedale di città di Castello precauzionalmente però era stato allertato anche quello di Perugia ma non è stato necessario ricorso alle strutture di emergenza del Santa Maria della Misericordia. A dare l'allarme al 118 è stato il personale del treno con un telefono cellulare. L'uscita dai binari come detto attorno alle 6 e 30 è stata causata dalla presenza sui binari stessi all'uscita da una galleria di un piccolo smottamento di terreno. Lo riferiscono i vigili del fuoco. Il deragliamento è avvenuto tra Monte Castelli e Trestina nella zona della fermata Ponte Tevere. I passeggeri sono stati estratti dalla carrozza dai vigili del fuoco con tre squadre e personale SAF specializzato in soccorso speleologico alpino e fluviale. Si tratta di un accadimento assolutamente imprevedibile favorito dalle piogge eccezionali degli ultimi giorni che hanno interessato l'Umbria come l'intera Italia e quanto riferisce l'assessore regionale ai trasporti dell'Umbria Silvano Rometti recatosi questa mattina sul posto dove è deragliato il treno della Ferrovia Centrale Umbra. L'uscita dalle rotaie sottolinea l'assessore è avvenuta all'uscita di una galleria ed è stata provocata da una frana del muro di contenimento al lato destro. Sul posto sono intervenuti subito i mezzi di soccorso e i tecnici di Umbria Mobilità. Nelle prossime ore la regione ha dichiarato l'assessore continuerà a controllare la situazione e a seguire i lavori per la rimozione del treno. Intanto sono stati già attivati i servizi di trasporto sostitutivi. Marcello Migliosi, Tef Channel News, Trestina, Città di Castello, Perugia. E i carabinieri nel scorso weekend hanno effettuato controlli a tappeto sul territorio perugino, tre gli arresti e quattro le denunce, come ci dice Paolo Costantini. Tre arresti e quattro denunce. Il bilancio della notte di controlli operati dai carabinieri della compagna di Perugia con il supporto del battaglione toscana giunto come rinforzo per monitorare il territorio perugino per un mese. I militari hanno perlustrato casolari, controllato le zone di Porta Pesa, Corso Garibaldi, fino a Balanzano, tra locali e Knight. Sono finiti in manette un tunisino dell'80 e un marocchino dell'85 bloccati alla stazione Fontiveggio nel centro storico. Entrambi erano sottoposti a custodia cautelare per reati contro la persona commessi a Perugia e Bologna. In carcere anche un albanese del 91 che alla vista dei carabinieri ha tentato la fuga opponendo resistenza. È stato trovato in possesso di 8 grammi di cocaina suddivisa in dosi. I denunciati invece sono un tunisino dell'86, un altro del 73, una rumena del 79. Tutti erano sottoposti agli arresti domiciliari ma non sono stati rintracciati nelle proprie abitazioni. Un equadoregno del 64 infine è stato sorpreso alla guida della propria autovettura in stato di ebrezza alcolica. Gli è stata ritirata la patente e sequestrata l'auto. Dai controlli nella zona Balanzano sono state elevate 41 contravvenzioni al codice della strada 36 per il mancato rispetto dei limiti di velocità, controllati inoltre in due locali notturni, clienti e ragazze. La guardia di finanza di Todi ha scoperto una società di servizi logistici che praticamente era sconosciuta dal fisco. L'indagine dei finanzieri della tenenza di Todi su una società cooperativa del settore dei servizi logistici per la distribuzione delle merci che, secondo le stesse fiamme gialle, nel 2009-2010 non avrebbe presentato le dichiarazioni ai fini delle imposte su redditi dell'IVA e dell'Irapa, non avrebbe versato ritenute da conto operate nei confronti dei lavoratori dipendenti per circa 200.000 euro e avrebbe impiegato cinque dei suoi lavoratori in maniera irregolare. Per i finanzieri, quindi la società in questione è da qualificare tecnicamente come evasore totale su una base imponibile di circa 2.250.000 euro ai fini delle imposte dirette e 2.250.000 euro ai fini Irap e circa 900.000 euro ai fini IVA. Gli amministratori della cooperativa sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Perugia e nei loro confronti è stato eseguito un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente che ha riguardato fabbricati, terreni agricoli, depositi bancari e quattro autovoicoli per complessivi 105.000 euro. Oggi a Perugia è stato presentato il progetto Umbria antiviolenza. Era presente anche il sindaco di Perugia e il presidente di Anci Umbria, Valentino Boccali, come ci dice nel servizio Valentina Baldù. Due centri antiviolenza per ospitare donne maltrattate o vittime di stalking anche con i figli minori. Sono in programma Terni e a Perugia e nascono dal progetto Umbria antiviolenza, finanziato dal Dipartimento per le pari opportunità del Consiglio dei Ministri e promosso dai comuni di Perugia e Terni, dalle associazioni Differenza Donna di Roma e Liberamente Donna di Terni. L'obiettivo più ampio dei centri va oltre l'accoglienza per la gestione delle emergenze, ma offrirà anche sostegno legale, sanitario e formativo e porterà avanti azioni di studio, ricerca e sensibilizzazione. Un centro antiviolenza è un laboratorio sociale, quindi fa ricerca, fa formazione, fa prevenzione. Attualmente si sta procedendo all'avvio della formazione delle operatrici e delle volontarie gestita dall'Associazione Differenza Donna di Roma, per la quale ci si può candidare fino al 15 aprile. Ma non è il primo esperimento del genere in Umbria, nel marzo 2009, era infatti stato inaugurato a Castel del Piano di Perugia il centro residenziale antiviolenza intitolato a Barbara Ciccioni, che però è stato chiuso quasi subito. Assessore, c'era in Umbria un centro antiviolenza intitolato a Barbara Ciccioni, che però è stato chiuso in breve tempo, come mai? Sì, qualche buon anno fa io non ero ancora assessore alle pari opportunità e questo è proprio il rischio che noi non dobbiamo evitare. Quel centro è chiuso quando sono esaurite le risorse del progetto. Oggi sono cambiati i tempi, perché stiamo in una regione in cui si sta predisponendo una legge regionale sulle politiche di genere, sulla cultura di genere, che mette al centro anche l'istituzione dei centri antiviolenza. Valentina Baldoni, Tef Channel News, Perugia. La rete e i social network si stanno affermando sempre di più come strumento di comunicazione anche tra cittadini e amministratori. Queste tematiche sono state così approfondite nel corso di un seminario a Villa Umbra di Pila. Ce ne parla nel servizio Paolo Costantini. Si è svolto presso la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica Perugia un seminario per approfondire tutte le novità teoriche e pratiche sulla comunicazione politica ai tempi dei social network. Questa attività formativa analizza quanto è importante per un leader politico la presenza su Facebook e YouTube e come promuovere culture partecipative attraverso concrete competenze digitali. La rete si presenta come lo strumento di interconnessione tra mondi che in questo momento sembrano lontani come la politica e il cittadino. Per questo motivo durante la giornata sono stati analizzati i processi dei nuovi aspetti della sociologia, della comunicazione e come e quanto i social network aiutino la proposta politica. È stato inoltre evidenziato come la rete possa servire alla politica per esprimere pensieri e posizioni e in che modo è diventato un innovativo mezzo di consolidamento del consenso ottenuto alle urne. Avremo la nostra terza pagina con un servizio di Paola Costantini sulla inaugurazione della mostra che Assisi ha dedicato al pittore Norberto. La mostra sarà visitabile fino al prossimo mese di giugno. Vediamo. La mostra antologica del maestro Norberto è ospitata ad Assisi fino al 30 giugno nelle sale di Palazzo Monte Frumentario. È sia per numero che per la qualità delle opere la mostra più importante, finora realizzata, dedicata all'artista di Spello. Si tratta di sculture, oli su tavola e tele. È possibile ammirare le sculture create negli anni Sessante in legno d'ulivo e chiodi neri, quelle in pietra serena in bronzo di dimensioni medie, intermedie e monumentali come il pellegrino di Assisi. Le opere dipinte con la tecnica dell'olio su tavola sono state realizzate dal maestro a partire dalla fine degli anni 50. Di queste fanno parte anche le opere della serie dei neri in cui compaiono Assisi e Venezia nonché le nature morte realizzate nell'ultimo periodo lavorativo del maestro morto nel 2009. Sono esposte inoltre in uno spazio dedicato della mostra circa 100 opere inedite, tecniche miste scoperte dopo la morte di Norberto. Durante la mostra sono proiettati alcuni documenti video di repertorio per ricordare il percorso artistico e personale di Norberto attraverso interviste televisive e reportage dedicati alle esposizioni realizzate durante la sua lunga carriera. Una delle sale di Palazzo Monte Frumentario è dedicata all'esposizione di una collezione di immagini che ritraggono il maestro accanto a personaggi famosi e amici che hanno apprezzato l'arte di Norberto collezionando le sue opere. La mostra Norberto è un'antologica oltre 500 fra opere e sculture che raccontano questo cammino di un artista di rilievo italiano e internazionale che ha sempre mantenuto forte la propria valenza e la propria identità verso i luoghi la terra in cui è nato e in cui ha operato. Un bianchino aveva lasciato su una tavoletta sporca dello stucco nella ristrutturazione della sua galleria di spello del suo piccolo diciamo atelier e lui iniziò a spalmare questo stucco sulla tavoletta e vide che crea questi effetti materici e da lì praticamente ha iniziato a usare questo questo stucco prima lasciando cioè spatolandolo e basta cioè in maniera diciamo molto uniforme e graffiando per creare queste forme poi andando avanti con questo stucco diciamo che è stata diciamo la sua la sua icona. E ancora Sisi al centro degli itinerari francescani oggi infatti è stata presentata a Perugia la guida la via di Francesco di Paolo Giulietti e Gianluigi Bettini. Vediamo di che si tratta nel servizio di Elena Ballarani. Un unico cammino sui passi di San Francesco che da nord e da sud raggiunge Assisi un pellegrinaggio per entrare in contatto con la sua straordinaria esperienza di vita che non smette mai di affascinare ed interrogare gli uomini di ogni tempo. È la guida ufficiale per i pellegrini sulla strada di San Francesco di Assisi realizzata a quattro mani da padre Paolo Giulietti vicario generale della diocesi di Perugia e Gianluigi Bettin consulente turistico e grande amante di viaggi. Otto tappe da Laverna verso Assisi, dieci tappe da Greccio ad Assisi con le varianti per Perugia e per Terni mentre si attraversa il cuore dell'Italia, l'Umbria, la Toscana e il Lazio. Dopo il lancio nazionale lo scorso 21 agosto a Rimini in occasione del meeting nazionale per l'amicizia tra i popoli oggi la presentazione a Perugia. Si rivolge innanzitutto ai pellegrini cioè a persone che vogliono fare un'esperienza intensa di contatto con il nostro territorio con l'esperienza francescana, con i luoghi di Francesco, a piedi o in bicicletta. Però si rivolge a tutti, a chi magari vuole conoscere più da vicino alcuni angoli dell'Umbria che non ha mai visto oppure che vuole entrare in contatto con la vita di San Francesco attraverso dei luoghi ancora oggi molto suggestivi. Sono suggestivi perché portano in alcuni casi anche dei segni tangibili della presenza di San Francesco? Innanzitutto il segno più tangibile è che ancora ci sono i frati e le suore e quindi vuol dire che è un'esperienza non solamente del passato ma anche dell'oggi che può essere vissuta, che ha qualcosa da dire l'uomo di oggi e poi indubbiamente sono delle perle di architettura monastica, religiosa assoluta e poi ci sono in alcuni casi proprio delle reliquie vere del passaggio di San Francesco a parte Assisi, pensiamo alle carceri, pensiamo a Monteluco, cioè luoghi dove San Francesco ha vissuto la Verna e ci sono ancora le tracce di queste sue esperienze profonde. Elena Ballarani, Taf Channel News, Perugia. E passiamo alla danza con lo spettacolo Otello, eseguito dalla balletta di Roma che è andato in scena al teatro di Narni. Vediamo. Il teatro Giuseppe Manini di Narni ha ospitato il Balletto di Roma, protagonista dell'evento conclusivo della stagione di spettacoli 2012-2013. E' andato in scena Otello nella versione di uno dei più apprezzati coreografi italiani, Fabrizio Monteverde. L'ambientazione della vicenda sviluppatasi nelle triangolo Otello desdemona Cassio, in cui i tre vertici risultano costantemente intercambiabili grazie agli intrighi di Iago, è situata in un moderno porto di mare. Si tratta di una sorta di zona franca, un limbo dove si arriva o si attende di partire, un coacervo di diversità dove tutte le pulsioni vengono pacificamente accettate come naturali e necessarie, proprio perché nel continuo brulicare del ricambio umano lo straniero, il diverso, il barbaro non esistono. Grazie all'originalità e alla forza dell'interpretazione coreografica resa tangibile dai ballerini del Balletto di Roma, lo spettacolo che è stato inserito nel cartellone della stagione del Teatro Stabile dell'Umbria ha riscosso il plauso incondizionato del pubblico. Ed apriamo l'ampia pagina sportiva del lunedì con il prezioso risultato messo a segno dal Perugia nella trasferta di Frosinone. Con la vittoria di ieri i grifoni consolidano così la seconda posizione in classifica e premono appunto al ridosso della capolista Avellino. Il servizio di Elena Ballarani. Non è più impossibile sognare per il Perugia. La promozione diretta potrebbe essere possibile e al termine di una partita come quella di ieri allo stadio Matusa di Frosinone tutti ci credono. I grifoni battono i padroni di casa con una prestazione determinata. Decisiva la rete dell'ex dell'incontro il 25enne Gianluca Nicco ma il dominio bianco rosso è in contrastato per tutta la partita. Ben 17 le occasioni da rete per i ragazzi di mister Camplone anche se la prima a inizio gara è del Frosinone con Santo Ruvo che al sesto svetta di testa su invito di Aurelio senza centrare lo specchio della porta. Sulla ripartenza successiva il Perugia passa con Nicco che riceve direttamente da rimessa laterale e in sacca sfruttando la distrazione della difesa ciociara. La reazione dei padroni di casa arriva alla mezz'ora con una mischia in area bianco rossa. Cesaretti prima e Aurelio poi mancano il colpo del pareggio. I grifoni gestiscono bene la gara e sfiorano addirittura il raddoppio tre minuti dopo con un bel destro di Politano su cui Zappino interviene in maniera prodigiosa. Nella ripresa il tecnico Stellone mette in campo tutto il suo potenziale offensivo che produce una sola occasione con Curiale ma l'ex Grosseto spreca da buona posizione. La festa è tutta del Perugia che si guadagna il secondo posto in classifica a sole cinque lunghezze di distanza dalla capolista Avellino. Abbiamo fatto una grandissima partita oggi con molta personalità abbiamo aggrediti subito loro sono andati non si aspettavano forse una partita del genere infatti sono andati in difficoltà abbiamo rischiato poco basta pensare Zappino ha fatto miracoli e sono penso i migliori in campo quindi vittoria importante per noi perché temevamo questa squadra perché questa squadra davanti è giocatori importanti siamo stati bravi a non farli giocare è merito dei ragazzi che hanno dato in massimo per questa partita. E intanto il Gubbio si lecca le ferite dopo la sconfitta interna patita contro gli Irpini dell'Avellino può essere passati in vantaggio la squadra teme anche per le sanzioni del giudice sportivo come ci dice nel servizio Paolo Costantini. L'anticipo giocato e perso contro l'Avellino ha lasciato Strascichi nell'ambiente rosso-blu e non solamente per la sconfitta subita contro la prima della classe ma anche per le conseguenze attese per le dichiarazioni nel post partita del presidente del Gubbio e per l'espulsione del capitano Sandriani direttamente dalla panchina. Per proteste Fioriti ha affermato come la sua squadra abbia subito una miriade di decisioni arbitrali avverse dopo aver contribuito a scoperchiare lo scandalo scommesse per la denuncia alla procura figici di Simone Farina. Insomma il patrono rischia una stangata ma anche con il capitano non andranno con la mano leggera. Intanto l'allenatore sottilde oggi torna a guidare la preparazione settimanale dei suoi con un bazoffia in più in attesa della decisione del giudice sulla richiesta dello sconto per di piazza che ancora una giornata di stop. Per il rosso-blu distanti dalla zona play out due punti si prospetta una difficile trasferta quella sul campo della nocerina terza in classifica quota 46 reduce dalla rotonda vittoria sul campo del viareggio per 3 a 0 risultato che ha di fatto agevolato il gubbio fermando la squadra di cuochi a 30 punti due in meno dei rosso-blu quei punti che sono la distanza dalla zona play out. Non sarà dunque un turno di campionato agevole quello in programma la prossima domenica ma la prestazione di venerdì allo stadio Barbetti a prescindere dal risultato può essere un buon punto di partenza per la settimana di preparazione appena iniziata. La Ternana ha archiviato la sconfitta esterna contro il Verona perché incombe nel suo rulino di marcia la gara a Liberati contro la Regina. Vediamo. In piena corsa per la promozione in Serie A il Verona si è imposto sul proprio terreno ad una Ternana ben organizzata a tratti anche Spavalda ma i padroni di casa non hanno perso l'occasione di incamerare tre punti preziosissimi per restare ai vertici della Serie B a spese di una compagine che si è impegnata a fondo riuscendo anche a fare centro con Bernardini protagonista di una giocata di alta classe. Purtroppo la mia prima rete in Serie B non è servita a nulla ha detto il centrocampista rosso-verde a fine partita dopo la sconfitta per 2 a 1 meritavamo di uscire dal Bente Godi almeno con un punto. Ma il calendario del torneo non dà tregua e il tecnico della Ternana Mimmo Toscano non si lascia andare ai rimpianti perché incombe il confronto con la Regina a Liberati. Una partita che vale come una finale Chiosa Toscano deciso ad archiviare una sconfitta onorevole in vista di una prova da affrontare con la giusta determinazione. I calabresi infatti non verranno certo a Terni sventolando bandiera bianca per cui i rosso-verdi dovranno dar vita ad una prestazione maiuscola. E dal calcio passiamo alla Tennis Tavolo con la prestazione del Perugia Tennis Tavolo che non è riuscita a contenere gli avversari. Si trattava del Castel Goffredo che si è imposto appunto ai colori Umbri. Vediamo. Nella decima giornata di campionato di Serie 1 maschile lo Steril Garda a Castel Goffredo espugna a Perugia battendo nuovamente i padroni di casa con un rotondo 4 a 0. Per i Mantovani la vittoria è preziosa in quanto consegna matematicamente il pass per la finale Scudetto contro la favoritissima Puania Carrara. Tra gli ospiti Marco Daldosso che porta a casa due vittorie, una rapida in 3-7 nel match d'apertura contro Vlada Borgic con il serbo ma in grado di avvicinarsi all'avversario poi chiudendo l'incontro con la vittoria più sofferta per 3 a 1 contro il capitano dei Perugini Francesco Lucesoli. Completano il quadro la vittoria più agevole del previsto di Damiano Serretti su Lucesoli e di Leonardo Mutti che dispone facilmente di Giovanni Laurenti. Gli Umbri sono ormai matematicamente quarti e fra 15 giorni renderanno visita alla Marcozzi Cagliari in una partita che già all'andata ha regalato equilibrio ed emozioni. Ed ora lo sport dei motori con la salita da Tuoro alla cima che è stato il terreno di svolgimento della seconda tappa del Gran Premio Smart Cup. Vediamo subito il servizio. Sono stati 52 gli equipaggi che hanno partecipato alla seconda tappa del Gran Premio Smart Cup alla quale è stato associato come evento sportivo il primo trofeo Slalom Unicef. La gara riservata alle minicar si è svolta a Tuoro sul Trasimeno nella incomparabile cornice paesaggistica del lago. Tre sono state le mance della tappa di Tuoro del Gran Premio Smart Cup sull'impegnativo percorso in salita della cima ben noto agli appassionati delle quattro ruote tra tornanti e ostacoli posizionati appositamente dal direttore di gara Fabio Bagnoli. I piloti vincitori sono stati Angelo Mierla confermato alla guida della categoria 1000 cm3, Virginia Patumi categoria Lady, mentre il primo trofeo Slalom Unicef ha dato i seguenti verdetti. Autostoriche Alberto Fasoli, categoria A Valerio Fantuzzi, categoria B Giuseppe Piccioni, categoria C Mauro Marchetti, categoria B2, Eliseo Propersi, categoria E, Marcello Albertoni, categoria Sport Rubens Ferrari. Alla cerimonia di premiazione è intervenuto anche il presidente nazionale della Lega Automobilismo UISP Carlo Ponti, mentre testimonial della gara è stata la modella Cristel Ciunza con la partecipazione del cantante Kel. E si chiude qui con la prima edizione di Tep Channel News, grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento con i nostri programmi e il prossimo appuntamento alle prossime edizioni. Buon pomeriggio. Grazie a tutti.